Con un messaggio pubblicato su Facebook, il sindaco di Vigianello, Vincenzo Corraro, ha annunciato di aver rassegnato le dimissioni dalla carica. La decisione è stata comunicata al Consiglio Comunale alle 22.30 di ieri, tramite posta certificata, e acquisita stamane al protocollo. L'atto, consumato con profonda amarezza e per il rispetto che porto alle istituzioni, scrive Corraro, ha un valore politico sicuramente forte, ma dovuto. Lo faccio per tutelare la mia dignità e quella di una parte dell'amministrazione comunale che mi è stata vicina in questa difficile scelta. Corraro ha annunciato inoltre le dimissioni di quattro consiglieri, De Franco e Petrola, per la maggioranza consigliare, e Fiore e Mango per la minoranza, anticipando l'imminente scioglimento del Consiglio Comunale. Nel post si legge che la decisione viene assunta in assoluta serenità e nella consapevolezza di aver operato scelte positive e irreversibili, che a regime produrranno risultati e benefici per la cittadinanza tutta, e che le motivazioni precise della scelta verranno esposte in una videolettera diffusa online. Corraro era stato eletto alle comunali del maggio 2012, con la lista civica Vigianello Cambia, battendo con il 57,5% dei voti il sindaco uscente Antonio Fiore. Alla base dello scioglimento, i contrasti politici fra sindaco e consiglieri. Gli atti sono già stati trasferiti in prefettura. Si attende ora la nomina del commissario che traghetterà il Comune verso nuove elezioni.